Roma, 30 ottobre 2018, lacrime per Ivan Cattaneo al grande fratello Vip3. Durante la settimana puntata del reality di Canale 5, il cantante, famoso per la hit Una zebra qua, si commuove e fa commuovere l'Italia televisiva con il racconto della sua dolorosa adolescenza. L'artista, che si salva dall'ennesima nomination, riceve la visita del fratello Donizio, lui è il mio grande fratello, scherza il concorrente che gli occhi luci di dopo un lungo abbraccio con un parente, sono orgoglioso di te, la gente fuori più vuole bene dì il fratello. E il Gepton, nato a Bergamo il 18 marzo 1953, che angadino. Lì dentro oggi, piuttosto che non ho mai avuto il coraggio di dir chi confessi, e, infatti, l'artista ha raccontato alcuni dettagli del suo doloroso passato come quando, da bambino, i genitori lo mandarono insieme. Io mi sentivo già diverso, ma non era quello il posto adatto svela per te. E, ancora, una volta. Da piccolo, ho trovato una mini cross di tucco e un pacchetto di tucca tucco. Quando mio padre lì ha visto con il giro di tinto lì ha tirato il dono. Ma mia mamma mia! Che peso aggiunge il cantante con le lacrime agli occhi. Ma il racconto ha fatto scendere le lacrime anche agli altri inquilini della casa che poi si strengono in un grande abbraccio con l'artista. Cattaneo non è soltanto uno dei principali esponenti dell'ondata artistica che negli anni 70 accostava la canzone d'autore alla sperimentazione elettronica. Il concorrente del GFD3 è da sempre impegnato per sostenere i diritti delle persone gay e con le sue canzoni ha toccato temi che spaziano dalla violenza al razzismo, dall'omosessualità libera sessuale. La tuccante parentesi dedicata alla vita di Cattaneo è stata poi alternata a momenti che giocarsi, al racconto della love story tra Jane Alexander e Ria Congaro che, però, si è dovuta interrompere o, almeno stoppare, visto che il bedeno è stato eliminato. Nel complesso la seconda puntata fa il record stagionale di ascolti con 3.876.000 spettatori totali, per il 21,17% di share con picchi che hanno superato il 35,22% e i 4,738.000 italiani davanti.